Chissà, 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 domani, su che cosa metteremo le mani? Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la tesi, non essere così seria, rimani. I russi, i russi, gli americani, non latimi, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un buono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco. Come sono le tue mani, nascerà chi non avrà paura, il nostro figlio. E chissà, come sarà lui domani, su quale strade camminerà, cosa accadrà per le sue mani. Si muoverà e potrà volare, muoverà sulle stelle, come si vede, se una femmina si chiamerà futura. Il suo nome è detto questa notte, mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarebbe un'ignatura. Ma non fermarti, voglio farla cacciata, tutti i tuoi occhi non vuol darti indietro. Tutto il mondo sembra fatto un video, sta perdendo a pezzo, come un vecchio prese in più. 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 spero di stimare ma adesso non vuoi farti di ancora parlarti non girare la testa perché sono le tue mani aspettiamo che ritorni la luce di sentire una voce aspettiamo sempre che domani iscriviti al canale